Cato poco, proprio alla fine, questa di fatto era l'ultima azione della gara, finisce qui. Oggi davvero non c'è stato nessun problema, una vittoria assolutamente comoda, una squadra brillantissima. E invece la tua analisi di questa gara qual è Luca? Il gol iniziale è stato decisivo, per loro l'incontro si è messo subito bene e gli avversari non hanno avuto la forza di rimontare lo svantaggio. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. È stato un grande piacere. Grazie. 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 Grazie.